Che cos'è oggi sostenibilità in Liguria? La sostenibilità per prima cosa non è semplicemente un termine, una tendenza che va di moda per il turismo, perché turismo e sostenibilità sono due espressioni che non possono che andare insieme per la competitività di una destinazione. Oggi la competitività di una destinazione la si gioca sulla capacità della valorizzazione, del rispetto dell'ambito del territorio per fare un'offerta che sia del mondo globalizzato sempre più possibile ad essere particolare, specifica, cioè proprio della destinazione della località, come si dice con un termine brutto, glocale, cioè la località che diventa protagonista all'interno di un mondo globalizzato. Sostenibilità e anche cura rispetto, oltre che al territorio, dell'ambiente e della gestione dell'azienda. Quindi sono due termine, due espressioni, sia dal punto di vista della gestione aziendale che dal punto di vista della gestione della destinazione territoriale, che sono imprescindibili per la competitività di una destinazione. Che cosa si fa in Liguria? Gli imprenditori stanno lavorando alacremente su questo termine, su questo tema, per cercare di adeguare sia dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista della formazione, quindi della gestione, della sostenibilità delle proprie aziende. Quello che noi chiediamo all'esterno è di dare al territorio quello che oggi manca, cioè un'organizzazione che sia capace di pensare, di costruire in miera integrata e strutturata un'offerta turistica che sia ripensata e sostenibile, non soltanto dal punto di vista, come abbiamo detto, della valorizzazione della tutela, ma anche dal punto di vista della sostenibilità, visto che siamo imprese economiche. La sostenibilità è anche riuscire ad avere la possibilità di stare in piedi e quindi creare reddito ed occupazione. Questa è la grande sfida che noi oggi chiediamo ai nostri partner pubblici. Grazie a tutti.